Ben trovati un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica arriva l'anticiclone su tutta la nostra penisola un'alta pressione che con la nuova settimana spingerà una massa di aria molto calda rovente dal nord africa in direzione italia proprio metà della prossima settimana temperature anche fino a 35 36 gradi intanto domenica cieli sereni o poco molosi zoom precipitazioni possiamo notare l'assenza di piogge su tutto il mediterraneo anche se verso la serata si formerà qualche fenomeno temporalesco sulle alpi soprattutto le alpi del piemonte andiamo al dettaglio quindi e con zoom nostra penisola possiamo vedere una giornata soleggiata di caldo ancora moderato attorno ai 28 32 gradi le temperature in serata temporali di calore sulle alpi centro occidentali dettagli maggiori approfondimenti scaricando l'app di trevi meteo